Ben ritrovati a una nuova edizione dell'ETG locale di Canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie che arrivano dalla regione, partendo dalla cronaca con un uomo che è stato investito in un tragico incidente stradale ieri sera in provincia di Frosinone. L'uomo di età giovane e molto probabilmente di nazionalità straniera è stato investito poco dopo le 23 di ieri sera a lungo la regionale Monti-Lepini, appunto nel territorio di Frosinone. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale poco lontano da una serie di attività commerciali e ad investire l'uomo con un'età apparentemente sui 30 anni ed ancora non identificato è stata una vettura con a bordo tre giovani che si sono immediatamente fermati per dare l'allarme. Inutile ogni soccorso da parte del personale dell'ETG 118, troppo gravi le ferite riportate dallo stesso uomo a seguito dell'impatto che non gli hanno lasciato scampo. Sempre essendo in tema di incidenti stradali ci spostiamo a Viterbo dove sulla SP7 che da Montefiascone va appunto verso Viterbo un'auto per causa ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ed è uscita di strada ribaltandosi. Non è da escludere che sulla dinamica abbia inciso il maltempo ma è ancora tutto in fase di accertamento. Non ci sono notizie sul numero degli occupanti dell'auto né su quello dei feriti perché la stessa auto è stata vista questa mattina presto da alcune persone che passavano in quel momento da quelle parti e al suo interno non vi era nessuno. Parliamo degli scontri che si sono verificati ieri nell'area di sosta di Badia Alpino in provincia di Arezzo tra i tifosi della Roma e del Napoli perché sembra che sia stato un appuntamento prestabilito quello all'autogrill oppure un agguato. Sono due e al vaglio le ipotesi degli inquirenti e sono appunto queste due al vaglio della questura di Arezzo che lavora per ricostruire la dinamica degli scontri avvenuti appunto tra i tifosi della Roma e del Napoli nell'area di servizio di Badia Alpino nella giornata di ieri domenica 8 gennaio. La stessa era di sosta era stato scenario dell'omicidio di Gabriele Sandri nel 2007 mentre tornando agli scontri di ieri un tifoso della Roma è stato ferito da un'arma da taglio e non è ancora chiaro se si sia trattato di un coltello o di un pezzo di vetro di una bottiglia rotta. Il ferito si è recato nuovamente all'ospedale San Donato di Arezzo dove è stato medicato e sono diversi i reati che gli investigatori stanno già ipotizzando nei confronti dei responsabili dall'interruzione di pubblico servizio all'attentato alla sicurezza dei trasporti. Passando alla regione Lazio parliamo quindi di politica perché la stessa regione con 25 milioni di euro ha finanziato alcuni progetti di opere pubbliche quindi con questo finanziamento in totale la proposta è stata fatta da parte dell'assessore Mauro Alessandri con le lavori pubblici con delibera numero 1246 del 28 dicembre scorso. Questa delibera ha dichiarato ammissibile a finanziamento un elenco di interventi strutturali da realizzare nel triennio 2022-2024 nelle 5 province del Lazio e come detto complessivamente si tratta di 25 milioni di euro da destinare ai comuni per opere pubbliche. Parlando di alcuni progetti nella provincia di Latina lì sono stati ammessi ben 12 interventi tra cui due a Pontinia che sono lavori del manto e copertura degli edifici comunali per 116 mila 709 euro e le recuperi adeguamento dell'implementazione di un impianto sportivo esistente per 400 mila euro. 500 mila euro vanno ad apriglia per la riqualificazione dell'area di via dei Cinquearchi mentre a San Felice e Circeo per 250 mila euro vengono assegnati questi fondi per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro dell'Aggiunta sottolinea l'assessora Erika Onorati. Parliamo di sport perché la top volley Cisterna ha perso ieri 3 a 2 nella terza giornata di torno del campionato maschile di Serie 1 di volley e ha perso 3 a 2 a Padova dopo che era in vantaggio per 2-7 a 0. Poi c'è stata la rimonta della squadra Veneta che si è portata a casa alla sfida. Cisterna porta a casa un punto per aver perso la partita al tiebreak e questo le aiuterà a muovere la classifica andando a quota 21. Padova è rimasta dentro la partita e ha saputo metterci in difficoltà soprattutto in battuta, dichiarato Fabio Soli, coach della squadra cisternese. Abbiamo perso la nostra fluidità, lo avevamo previsto e non siamo riusciti a rilanciare il ritmo dopo i primi due set. Ci spostiamo infine a Sermoneta, sempre in territorio pontino dove sabato 7 gennaio è stata inaugurata una nuova importante mostra che inaugura anche il 2023. La mostra si tiene presso il Museo Diocesano di Sermoneta e la chiesa di San Michele Arcangelo e arriva la retrospettiva ritratto d'artista che è dedicata alla figura di Laura Marcucci Cambellotti, figlia e nipote nuore di tre grandi personalità del primo novecento. La stessa Laura Marcucci Cambellotti è venuta a mancare nel 2020 all'età di 108 anni ed è stata un artista che attraverso dipinti, disegni, incisioni e razzi ha raccontato il suo vissuto e i luoghi che ha abitato. In particolare il Lago Robontino lasciandoci opere in cui sono stati protagonisti le figure femminili, paesaggi e nature morte, oltre a diversi autoritratti. La mostra è a cura di Vincenzo Scozzarella e Ferruccio Pantalfini, promossa dal comune di Sermoneta in sinergia con il centro studi Cambellotti e altri enti. Come detto è stata inaugurata il sabato 7 gennaio e si terrà fino al prossimo 12 febbraio. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo alla programmazione di Canale 81 Lazio. Grazie per la visione!